Tra gli ingredienti in grado di salvare il mondo ci sono la cultura e l'amore. Per questo è bello, nel giorno dedicato agli innamorati, puntare l'attenzione sulle ricette che insegnano a mediare i conflitti a scuola. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Nino Boeti, ha accolto a Palazzo Lascaris gli studenti e le studentesse che hanno preso parte all'evento in scontro San Valentino, la parola al primino, che si colloca nell'ambito delle iniziative promosse dal Consiglio regionale per la giornata nazionale contro il bullismo. Studenti e studentesse da tutto il Piemonte hanno condiviso esperienze di bullismo vissute spesso in prima persona attraverso testimonianze, confronti reciproci e una simulazione di mediazione di conflitti proposta dal liceo Avogadro di Torino. Spazio anche alla proiezione del video rap imparando a essere grande di Save the Children e a dimostrazioni di Aikido con l'associazione Shisei. La seconda parte dell'evento è stata invece dedicata a una tavola rotonda sull'esame delle buone pratiche per combattere il bullismo. Far parlare loro rispetto a ciò che pensano della difficoltà di trovarsi in certe situazioni ci sembra che possa essere davvero la strategia vincente. Intanto se loro parlano ci obbligano anche un po' di più ad ascoltarli e forse ascoltando si possono anche evitare problemi peggiori. Ma nel tempo hai cominciato a infierire su di me, in modo sfruttano. Quello che mi è successo nella scuola primaria sono contenta di averla raccontata in questa occasione perché penso che sia un aiuto per tutti i ragazzi e per le maestre e gli insegnanti che dovrebbero cercare di capire e di ascoltare gli alunni. Noi interpretiamo i comportamenti degli altri magari anche sbagliando senza sapere in realtà loro cosa vogliono dire. Così abbiamo imparato a gestire i conflitti anche perché ora ci sono, cioè tuttora ci sono, però diciamo a gestirli e anche a risolverli spesso perché sennò sarebbe insostenibile cinque anni di scuola.